Quattro giocatori. Passo. Passa. Punto tutto. Sei milioni. Punta. Sei milioni. Tutto il resto. Cinque milioni. Tutto il resto. La puntata è sei milioni. Rilancio. Rilancia. 12 milioni. Uno contro uno. 40 milioni e 500 mila. Tutto il resto. Rilancia. Tutto il resto. Beh, penso che in questo caso la vedrò. Vede. 115 milioni di dollari nel piatto. Signori, prego. Mostrate il punto. Colore. Colore all'asso. Full. Otto e assi. Non fu il più alto. Ah, sì, è sei. Messiai Bond. A cinque e sette edifiche. Scala reale. Scala lotto. La mano migliore. Messiai Bond vince. Per lei. Grazie infinite.